Buone nuove sembrano giungere da Roma per quanto riguarda la sezione di staccata del Tribunale di Ischia. Avvocato Cerammare? Sì, ieri è stato approvato in commissione l'emendamento che prevede la proroga di altri due anni della permanenza della sezione di staccata sull'isola. Naturalmente non possiamo cantare vittoria sin da adesso, ma abbiamo passato il filtro in commissione. La settimana prossima si voterà in aula e siamo fiduciosi che l'emendamento dovrebbe passare, dopodiché si andrà al Senato. Questa è la dimostrazione che quando si crede in una cosa veramente e ci si impegna e si lavora, come abbiamo fatto in questi ultimi anni e mesi, con i nostri sindaci, con tutte le istituzioni locali e con un'avvocatura estremamente impegnata su questo argomento, alla fine i risultati arrivano. Siamo sulla strada giusta, l'ho già detto in precedenza, una strada tutta in salita ancora purtroppo, una strada da percorrere un passettino alla volta. Adesso abbiamo fatto un altro passettino giusto, tra varie insidie ed ostacoli. Ma è la strada che sono sicuro e sono convinto che alla fine ci porterà alla meta. Vorrei ricordare che questo emendamento a luglio non è passato nella riforma della giustizia. Fu presentato dall'onorevole Sofia Moddio del PD e fu ritirato il giorno dopo. Non è passato nella legge di stabilità, ma per vizio di materia. Nel mille proroghe non è passato, ma perché il mille proroghe prorogava i termini che scadevano nell'anno 2015. E questo è un termine che scade il 31 dicembre 2016. Quindi, grazie a Dio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ed è stato messo un nuovo tassello a quel grande puzzle della giustizia delle isole minori che mi auguro continuerà a esistere in secula seculorum. Perché, l'ho sempre detto, è il servizio fondamentale di chi ambisce, aspira ad uno Stato democratico, ad avere uno Stato democratico fondato quindi su un'armonia di rapporti tra i consociati che solo l'ordinamento giuridico e la sua applicazione, l'applicazione delle leggi mediante la giustizia, ci può dare. La giustizia è quella bilancia su cui si reggono tutti i diritti e tutti gli altri servizi pubblici essenziali. Non può mancare in uno Stato di diritto, in uno Stato civile, che mi auguro Ischia e le altre isole minori continuino ad essere.